Io ho cominciato a spostarmi, ero trasformato con proiezioni fuori, però quello che è cominciato qui deve essere, deve avere i punti, non c'è andare. Io comincio un movimento da qui, lui è caduto, quello che lui è tirato, questo è una seconda, lui è caduto, non c'è short, ma non fai, short, so che fei state, ora eccolo, vai ancora oltre, vai, vai prendere, Trini, trini Ehi, ehi, io stai presto a scuola Non ti... Ti ho Controllo Ehi, 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 ehi Hai te il fruco Ti ho Ti No, tamma Tam pra ehi, per il fare il fatto, no? Ah, di gelato Ho, ancora di più Proprio abbassi di gelato No Ma tu hai vito via, per il tipo di Guarda Controlla-C Tu vuoi controllare, bene, diciamo, e a bene E tu, poi, tu devi fare non pensi di me non pensi di me via 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 sia via 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 tu da solo togli tua vittoria prendimi con un passo dai due passi io vado, tua presa deve essere già con un passo e sempre proteggo mi un passo con sguardo e devi andare vicino sui passi in un adondo non l'ho riferato potevi controllare questa cosa guarda, prendi guarda, guarda un movimento non cerca di fare ancora un movimento qui qua qui non oddi non devi compratare di più, guarda hai capito? resta il discorso guarda guarda il discorso, stai tranquillo guarda 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 Grazie. Grazie.